Maestro, tornando a Bertolucci, lei ha collaborato a numerosi film In particolare per Novecento, ultimo tango a Parigi e la Luna, com'è stato il suo lavoro sulla luce e sul colore? Sin da quando, come parlavo prima, degli anni di studente, i primi anni di ingresso nella produzione L'incontro con Bernardo, l'incontro con quel divento di Caravaggio Io ho cercato nella prima parte, più o meno sono almeno dieci anni Mi sono interessato al linguaggio della luce La luce è come luce naturale o luce artificiale Quindi in genere, per esempio, in una sceneggiatura Un regista mette delle cose semplici La scena è di giorno o di notte Ma il giorno ha tutto un gradiente All'aurora, l'alba, il mattino, il giorno, il pomeriggio, il tramonto, l'imbrunire e la sera Quindi io riuscivo a scrivere nel copione tutta una serie di articolazioni della luce Che ovviamente poi gli proponevo al regista e con sua approvazione Ovviamente ponevo questo tipo di, diciamo, di visione Perché poi cambiano gli atteggiamenti Se noi facciamo una scena proprio in Novecento Mi ricordo che Bernardo mi diceva Lui aveva non solo questa necessità di scrivere con la macchina da presa Ma anche la necessità di fare le inquadrature in ordine L'inquadratura numero uno, la due, la tre, la quattro, la cinque, la sei, la sette Anche se durante l'arco del giorno Si cominciava alle otto del mattino per preparare Alle nove si comincia a girare E c'è un certo tipo di luce Il sole sta qua Poi andiamo a mezzogiorno, il sole sta là Poi alle due il sole sta di qua Alle quattro, alle sei sta di là E nell'arco di tutta la sequenza Nella proiezione finale Dovrebbe essere vista da uno spettatore Come una scena che dura tre minuti Cinque minuti, non di più Come si fa questo? E lì c'è l'arte appunto di chi esercita questa, diciamo, di professione Che usando dei riflessi, usando delle luci, usando dei filtri, usando delle cose eccetera La stampa finale cerca di dare questo tipo di visione uguale E Bernardo mi diceva Vittorio, io ho questa necessità Tu usa tutte le tecnologie che tu puoi per dargli questo tipo di cose Però a me piace pure che nell'arco, diciamo, di una scena Simbolicamente può dare l'idea che non dura soltanto quei tre minuti Cinque, trenta secondi, quello che è nel taglio di una scena Ma che può avere uno spazio più ampio E in questo lui, diciamo, aveva il bisogno di esprimersi In un modo cosciente per certe cose E in un modo inconscio per altre Io quando ho capito questo, tanto più che parliamo della luna Perché il film si chiama la luna quando è la storia di una madre? Perché la luna è il simbolo della madre Sul piano simbolico E quindi io sentivo il bisogno di rappresentare Nel rapporto iniziale Tra la luce e l'ombra Questo tipo di visione Quando ho usato Ho avuto l'idea Io l'ho proposta a Bernardo Nel momento bellissimo però Ricordati che dobbiamo girare a Parigi Dalle nove del mattino fino alle sei Di fare a Parigi tutta con la luce naturale blu Che per me aveva un sentore magico Io non sapevo all'epoca il significato dei colori Perché non me l'aveva insegnato nessuno Poi facciamo l'ultimo tango a Parigi E dico come facciamo ad avere una visione completamente diversa E arrivo ogni volta che vado a trovarlo A fare i sopralloghi a Parigi Io stavo girando l'Orlando Furioso con Ronconi qui a Roma Arrivavo alle dieci del mattino a Parigi D'inverno per fortuna Una città diciamo nel nord Una città piena di nubi Con la luce naturale molto bassa C'erano tutte le luci artificiali Come questa accesa Che hanno questo colore più dorato Che hanno questo colore molto più caldo Rispetto alla luce naturale d'inverno fredda Se questa naturale fredda È stata perfetta per il conformista Adesso mi veniva Il sentore era bello Questo senso di tramonto Sempre Tra la luce artificiale calda Rispetto al giorno Che era un pochino la figura di Marlon Brando C'era che era un uomo che stava un pochino sul suo percorso del tramonto E quindi gli propongo questa cosa Bernardo facciamo tutto il film con questo tono arancio Con tutte queste luci Mi piace Paris La Villumiere Mi disse questa frase E poi toccava a me gestirla tutta questa cosa qua Arrivo al Novecento E ovviamente dividiamo Questa parte da una sua idea Di fare il rapporto tra i due protagonisti Il contadino e il padrone Nascono insieme questi due bambini E ci sono quattro età L'infanzia La crescita La maturità E la vecchiaia E ci eliminiamo Simbolicamente alle quattro stagioni Cioè Il Novecento è un secolo Noi prendiamo in simbologia un anno Diciamo Però per noi questo rappresenta tutta la storia di un secolo Del Novecento E quindi facciamo Partiamo dalla primavera L'estate L'ottuno E l'inverno E facciamo le quattro cose E io dico bellissimo E quindi mi applico in questo tipo di visione Quattro colori diversi Tutto Una grande visione molto naif Primitiva Che era un pochino quello che avevo scoperto all'epoca Antonio Ligabue Che era un pittore lì vicino Parma Anche perché avevo conosciuto Delle pitture in un'altra zona Che mi avevano dato questa grande Sono stati Dice a me I pittori primitivi I miei primi maestri del colore Perché io non avevo la scuola classica Che mi aveva parlato della pittura classica Ho imparato prima I colori primitivi E quindi con Stradigia del Ragno abbiamo cominciato questa divisione Che poi è passata al novecento E quindi c'è questa grande Emozione cromatica Che i pittori primitivi hanno Che dipengono nell'inverno O di domenica Quando non lavorano E non hanno la visione accademica E lo fanno per istinto Diciamo le cose E questa è una cosa che mi piaceva molto Su quel pagno lì E quindi poi pensiamo Un pochino alla conoscenza Tant'è vero che ho messo un dipinto Come il tipo di ispirazione mia Di novecento Di Gino Covini Che è un grandissimo pittore Di vicino Modena A Pavolo nel Frignano E c'è un quadro meraviglioso Che è la formazione della cooperativa Mentre poi per il secondo atto di novecento Guardiamo alla bellissima da Volpeto Di quarto stato In tutto quello che è l'evoluzione Cioè c'è sempre stata un'ispirazione pittorica Per noi inizialmente Che ci ha dato un pochino in là Della cosa La cosa che però arrivo Una volta che Francis Coppola Vede il conformista Al festival di New York Si innamora del film Lo fa vedere a tutti i suoi colleghi Se ne zampa anche una copia in 16 mm Arriva a un certo punto Che mi fa Subito dopo novecento Manda il suo produttore Esecutivo a Roma A propormi di fare Apocalypse Now E io dico Ma io che centro Con un film di guerra Contro l'America Contro il Vietnam Sono abitato qui in Italia Con Bernardo Parliamo di sottogliessi Di rapporti visuali Tra l'inconscio e il cosciente Con Giordano Bruno C'è un tipo di visione filosofica E così via Parliamo di tonalità leggere Io su un film di guerra Che ci faccio Fred De Luce dice Aspetta chiamiamo Francis Andiamo a Francis al telefono E Francis molto lentamente Sente che il mio inglese Era molto veramente elementare Mi spiega tutto Dice Vittorio Cortesemente Prendi un piccolo libro Di Joseph Conrad Si chiama Cuore di Tenebra Lì c'è il significato Il principio Di quello che io voglio fare Tu capirei da lì Che io voglio dire la verità Questa volta Quando una cultura O una civiltà Si sovrappone A un'altra cultura Senza rispettarla Fa un atto di violenza Questo è accaduto Nella tua patria Con i romani E' accaduto con i spagnoli E' accaduto con gli inglesi E' accaduto con i portoghesi E' accaduto con tutte le civiltà Delle epoche Delle epoche Hanno portato Secondo loro la civiltà Ma ne hanno distrutto un'altra E questa è una cosa Che io voglio dire Voglio dire come dire Ti mando un copione Adesso tradotto in italiano Magari Forse non sarà tradotto perfettamente Però tu intanto leggi Il principio Leggi il copione Cortesemente Vieni in Australia Con me Andiamo a fare i primi Sovalloghi Lì ci sono gli elicotteri Simili a quelli che usavamo Noi Nella Usa l'America In versione Eccetera Ci conosciamo meglio E poi tu mi dici Se questo Ti faccio vedere Tutte le Anche di Porta Los Angeles Tutte le tecnologie moderne Che abbiamo noi in America E poi tu mi dà La risposta Mi ha cominciato a dirigere Per telefono Io ho letto questa cosa qua Ho detto che Accidenti se mi interessa Perché questo È un Diciamo È un principio Universale Come faccio io a tradurlo Visivamente Prendo la luce artificiale E la sovrappongo A la luce naturale E creo un conflitto Cioè una visione Di conflitto Diciamo visiva Prendo i colori artificiali Gli americani Usavano delle bombolette Di fumo colorato Perché è un simbolo Un fumone rosso Vuol dire All'elicottero È pericolo Non atterrare Un fumone giallo Aspetta Un fumone verde Atterra Cioè c'era Tutta una simbologia Di significati E io quindi Parlavo con quelli Di effetti speciali Mi metti un fumone rosso qua Uno verde qua Uno già A seconda di domanda Cioè mi esprimevo In colore In luce Di questa cosa qua Finisco Apocalypse Now E proprio in questa casa qua Ho detto io Adesso devo conoscere I significati Dei colori Perché altrimenti Non posso Continuare Su un piano emozionale Anche su un'idea Che ho Ma non so perché Che significato ha Quell'azzurro Di più conformista Quell'arancio Di cose eccetera E rifiuto Qualsiasi film Per un anno Studio Libri eccetera E imparo La simbologia Dei colori La fisiologia Dei colori Imparo Quella che sia La drammaturgia Dei colori E così via E il primo film Che poi mi propone Bernardo Cos'è? La luna Che è la storia Di una madre Quindi Indubbiamente Lui parte Da principio Per un film simbolico E io applico La simbologia Dei colori Qual è la differenza? La simbologia È ciò che noi Individualmente Crediamo Il significato Di quel colore Se io ho assistito A due anni Ad un Ad un atto d'amore Tra mio padre E mia madre Dico per esempio E mia madre Aveva una sciarpa azzurra O zerrina Quel colore Mi rimane in mente Come fosse un atto Armonioso Di amore Se però Magari in un'altra scena C'è stato Due amici Due conoscenti Genitori E c'è uno schiaffo Che da uno all'altro E uno ha una sciarpa verde O un gilet verde Applico quel colore A quella cosa lì Io Lo applico Cioè diventa Individuale la simbologia Non è reale La fisiologia Che poi applicherò Invece Quindi coppola Un sogno lungo giorno È La luce Torniamo sempre Alla prima domanda È un'energia visibile Che Quando arriva È come energia A una frequenza E ci arriva addosso Noi non la vediamo Solo con gli occhi La vediamo anche Con tutto il corpo Come una lastra Fotografica E questo ci cambia Il respiro Questo ci cambia La pulsazione Del polso Ci cambia Il metabolismo Ci cambia L'emozione Questa è una scienza L'ha inventata Ippocrate Non io Che studiava Le reazioni Del corpo umano Rispetto agli alimenti Della vita E quindi Tutta la seconda parte Della Diciamo Della mia Professione Mi esprimo In un modo Molto più completo Nel fare questo Io Ho tutte le idee Che ho fatto Film per film Questa è una cosa Molto bella Italiana Cioè non solo Bernardo Ma anche Giuseppe Pedroni Griffi Franco Rossi Luca Ronconi E mi hanno Insegnato Che ogni tipo Di film Bisognava trovare Un'idea Visiva E non Credo che sia Proprio Una cosa Italiana E quindi Poi Magari All'inizio Erano Viei Molto semplici Però poi Diventato Per me Sempre più Compresso La ricerca E lo studio Di ogni film Diventavo Un'ideazione Cinematografica Voluministica E addirittura Ovviamente Devo proporla Al regista Il regista È come Un direttore D'orchestra Qual è la differenza Tra noi E un'orchestra Nessuna Nel senso Che un'orchestra Ha vari solisti Chi suono il piano Chi suono l'arpa Chi canta E c'è Un direttore D'orchestra Che dirige Il tutto In una direzione E in un ritmo Cinema è uguale Ci sono vari solisti Che è lo scenografo Il costumista Il cinematografo Come mi chiamo io Il montatore Il musicista E c'è un regista Che dirige il tutto Quindi È un'arte comune Cioè io Per quanto Io cerco di capire Chi sono Esprimendomi E per me È fondamentale Capire il senso Della mia vita Ma Se non ho uno scritto E non ho chi mi dirige Io non esisto E quindi Soltanto attraverso Il linguaggio della luce Io riesco a leggere Cosa significa Questo senso Che ho avuto subito Nel mettere giù Queste note Scrivere con la luce Perché È la differenza Delle prime due parole Che dicevamo prima Fotografia È un'espressione In una singola immagine Cinematografia Si aggiunge La disidenza Cacchino Motion Movimento Quindi è cinematografia Quindi ha bisogno di un tempo È come un libro In cui Il racconto accade Tra un inizio Uno svolgimento E un completamento E in che modo accade? Tramite il ritmo La musica Cioè in realtà Il cinema ha tre grandi Diciamo Sostegni Di arti creative L'immagine La musica E la parola Nel fare questo Sono arrivato A un certo punto In cui Sono passato Al terza fase Hanno conosciuto Warren Bitti Poi dopo Ma perché io Ho diviso La luce dall'ombra? Perché ho aperto Quando ho studiato I colori La luce bianca Isaac Newton Mi ha insegnato Che esistono Sette colori Visti Alla vista Il rosso L'arancio Il giallo Il verde L'azzurro L'enne col violetto E ognuno Ha una lunghezza tonda Ognuno Ha un'emozione E quindi ho Cominciato a scrivere A prendere note Su queste cose qua E qui ho capito Che adesso Tutto ciò Che io avevo diviso Perché io l'ho diviso? Perché poi Il simbolo Come diciamo prima Conscio Incosciente Incoscio Uomo Donna Perché io sono diverso Da mia moglie? La mia vita Adesso Che è giorno Cosciente Dove tocco le cose O è Questa notte Io ho sognato Delle cose O è durante il sogno Forse È un insieme Di queste due cose Quindi Qual è Il rapporto Tra due cose opposte? Perché Warren Beatty Che è conosciuto Come un playboy Adesso vuol fare Un film Rez Che è un socialista Un scrittore Che vuole Impiantare Quello che è La struttura Della rivoluzione russa In America Addirittura Un grande rivoluzionario Quindi come E allora Mi studio di nuovo I filosofi greci Platone Talete Nassimene Nassimando Aristotele E compagnia Che mi dicono In realtà La vita È formata Dalla materia La materia È formata Da quattro fasi Fondamentali La terra Il fuoco L'acqua E l'aria Quando sono in armonia Arrivano all'energia Albert Einstein E uguale a MC4 Cioè Ognuno In un modo diverso Arriva a questo Che è il viaggio Della nostra vita Della nostra vita